Sindaco, voi siete un comune collinare sull'asta del Po, quindi siete lontani dalla diga del Moncenisio e per i vostri cittadini è difficile capire che ci può essere una qualche sorta di rischio. Qual è il vostro approccio al problema dighe? È già difficile per noi amministratori capire che c'è un problema dighe, non solo per i cittadini. Noi cerchiamo di essere sensibili a questa problematica pur avendo noi le dighe, non solo quelle del Moncenisio, abbastanza lontane, pur capendo che nel caso di disastro potrebbe colpire anche il nostro territorio. Il mio territorio in modo specifico è molto collinare e poco pianeggiante, dunque non dovrebbe colpirmi in modo così sostanziale, però potrebbe colpire dei servizi che vengono utilizzati nel mio comune. Faccio un esempio, la stazione di pompaggio che a livello del Po, quello potrebbe essere un grosso rischio, potrebbe lasciare completamente senza acqua potabile nel mio comune. Allora proprio per questi motivi la nostra attenzione su queste problematiche deve essere molto alta.